Ciao a tutti, nel video di oggi, Vittoria fa finta di preparare il caffè a mamma e papà per poter fare colazione tutti insieme. Poi, tra una caucola ed un'altra, Fedex prova a fare un'acconciatura a Vitto. Vi lascio al video, buona visione. Stavi cadendo, monella. Ti amo, vai a dare un bacino a papà anche. Avete gli stessi cappelli. Ciao piccola bimba, ciao piccola bimba. Cin cin, che buono. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin, un grande cuoca, Vitto. Sei bravissima a cucinare, eh? Che buono, amore. Cos'è, un budino? Am. 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 Andiamo di là? Andiamo. Buon latte. Buon latte. Ciao. Vieni che dove devo andare, vieni amore. Ti farei un codino alla fiorello anni 90, che dici amore? Vitto? Va bene un codino alla fiorello anni 90? Sì. Codino alla fiorello. Ti piaci così amore? È stato bravo papà? Eh? Beh, risultato ottimo amore, eh? Dammi un cinque. Cinque. Sì. Un disastro. Senti amore, ma che belle treccine. Chi è che te le ha fatte queste treccine? Papà. Te le ha fatte papà? Sei sicura? Tata. Ah, Tata te le ha fatte. Tata. Dalla destra. Andiamo a sinistra. Mangia bene Leo, se no. Ma dai, è buonissimo questo cuore. Ha assaggiato? Assaggiarlo, è buonissimo. È buono. È buono. È buono. È buono. È buono. È buono. Grande sorpresa. È arrivato il nuovo shop di Leone e Vittoria Stories. Puoi trovare il negozio nella pagina del canale. Oppure cliccando nel link giù in descrizione. Guys, I just finished my very easy makeup for a day in Milano. Using all Chiara Ferragni products. Look at this. So glowy, I'm obsessed. So glowy, I'm obsessed. You can find the products that I used on my makeup at this link. Look at the blush. Lipstick, eyeshadow, highlighter, bronzer, mascara, everything. And then, you know. But let's see. Okay. Bye.